Un riconoscimento ufficiale ai Vigili del Fuoco per la loro attività educativa nelle scuole cittadine e per la generosa partecipazione volontaria nella gestione di eventi pubblici come la festa della Befana. A Palazzo San Giacomo il sindaco De Magistris e l'assessora Palmieri hanno ricevuto una delegazione di Vigili del Fuoco per ringraziarli della collaborazione nelle numerose iniziative pubbliche. Oggi suggeriamo un'attività che già da tempo è svolta dal comando a favore della cittadinanza in modo particolare scoleresca che è quella di divulgare la cultura della sicurezza. Un protocollo sottoscritto dal sindaco e dal comandante provinciale Vallefuoco ha fissato gli obiettivi della cooperazione tra cui quello dell'educazione alla sicurezza civica e alla cittadinanza attiva per i ragazzi delle scuole. Il significato più importante di questo protocollo oggi è di andare a suggellare ulteriormente il profondo legame che unisce la città, i suoi cittadini ai Vigili del Fuoco di Napoli. Siamo arrivati alla firma di un protocollo tra il Comune di Napoli e l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo dei Vigili del Fuoco nonché siamo riusciti in questi anni a garantire sempre iniziative meravigliose come la Befana in piazza del Plebiscito, Pompieropoli, tutte volte a costruire una cultura della sicurezza affabile che piaccia ai bambini come da sempre piaccia ai bambini possedere il camioncino dei pompieri per dirla in modo affettivo. Certamente con il comandante Vallefuoco come con il precedente comandante e con tutta l'istituzione noi abbiamo realizzato sicurezza.